Non ce l'ha fatta Alessandro Falcione, 38 anni, residente ad Omignano, ma originario di Sessacilento. L'uomo, ieri pomeriggio, stava facendo rientro a casa, percorrendo la Pedemontana tra Casalvelino e Omignano, quando si è scontrato frontalmente con un auto finendo a terra dopo un volo di alcuni metri. Subito trasportato in codice rosso presso il San Luca di Vallo della Lucania, è deceduto. Alessandro era conosciuto da tanti a Casalvelino Marina per la sua professione di pizzaiolo presso un ristorante del posto sposato e papà di tre bimbi. Non ha riportato danni invece la donna al volante della Lancia Ypsilon proveniente da Verduzio, così come l'uomo che guidava l'Alfa Romeo 147 coinvolta anch'essa nel sinistro stradale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della locale stazione per accertare le cause del tragico incidente stradale. Su quella strada nel mese di febbraio perse la vita Emanuele, un bimbo di quattro anni. Il piccolo insieme alla sorellina era a bordo della macchina guidata dalla mamma quando improvvisamente l'auto finì fuori strada. L'impatto fu violentissimo. Tanti sono stati gli appelli nei mesi scorsi di mettere in sicurezza quel tratto di strada, ma a nulla è valsa la perdita di una piccola vita ed oggi di un giovane lavoratore, padre e marito.